È il 2009, ho 15 anni e i miei pomeriggi post compiti sono alietati da K2, che da settembre trasmette un cartone che mi era già capitato di vedere a pezzi su Jetix qualche anno prima. Ultimate Muscle è un'esplosione costante, il modo perfetto per iniettare testosterone nel corpo di una persona, una serie d'azione che ridicolizza e gioca con tutti i trop del tokusatsu, senza rascondere una forte ispirazione al colorato mondo del wrestling anni 80. Da bambino era un divertimento continuo e qui interviene la domanda che ci facciamo ogni qual volta ci confrontiamo col ricordo di un cartone che ci piaceva. Ma sarà davvero bello come lo era a 15 anni? Ciao a tutti e benvenuti ad Anime Nostalgia, rubrica in cui rivisito gli anime della nostra infanzia per capire quali rivedere e quali no. I ricordi possono essere molto ingannevoli, quindi ho pensato che potesse essere un format utile a non fare buchi nell'acqua. Il tempo è ottimizzato, si sa. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che mi trovate anche su Twitch, il canale è Anime T-Time, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.00. In descrizione, inoltre, trovate tutti i link di live per seguirmi. Adesso però bando alle ciance e che i giochi comincino. Anzitutto, da adulti la prima cosa di cui ci si rende conto è che Ultimate Muscle è il sequel di Kinnikuman, titolo molto celebre e amato in Giappone che è arrivato in Italia solo in forma di pupazzetti di gomma con la prima linea degli exogeni. La mancata conoscenza della storia originale non è però mai stato un problema e il perché è presto detto. La serie non lo fa pesare mai. Gli ex protagonisti sono infatti relegati al ruolo di figuranti, supereroi che un tempo salvavano galassie a mani nude e che ora devono farsi da parte perché c'hanno un'età. Le gesta leggendarie, l'eredità e i rapporti con la nuova generazione vengono raccontati in flashback costanti e onnipresenti. Tanto basta per lasciar cadere il problema e appassionarsi ai nuovi personaggi, squisite riproposizioni di modelli classici ma inossidabili. Il protagonista pasticcione ed egoista che nei momenti di bisogno svela tutto il suo vero valore, il rivale ambiguo moralmente con le dead issues, il duro dal cuore d'oro, lo snob dal cuore d'oro, lo scarsone dal cuore d'oro. È un cast che forse da adulti rivela la ripetitività degli schemi comportamentali, ma non allontana più di tanto da un divertimento ancora genuino. L'idiozia della comicità, talvolta più presente dell'azione, ha quell'universalità da battute che colpiscono bene alla pancia, superando ogni cinismo della razionalità più bieca. La canzone della ciccia, i modi architettati da Suguru per scappare dai suoi match, l'insospettabile verve comica di Dick Dick Van Dick. Ultimate Muscle ha tanti modi per far ridere, a tutte le età. Uno sicuramente è la conformazione dei nemici, spesso oggetti in forma umanoide. Un cellulare, un cesso, una stampante. È un trucchetto per nascondere il vero pericolo che rappresentano, spesso anche molto elevato. Nella versione cartacea c'è una violenza che nell'anime, indirizzato più ai bambini, non compare, ma per quanto colorati e pittoreschi, i nemici della serie hanno anche quel carisma squisitamente teatrale e pacchiano che li rende credibili per il tipo di serie in cui sono. Esagerati, insensati e crudeli. Proprio come vuoi che sia il villain di una serie pomeridiana. E se vogliamo, è questo l'unico problema. È esattamente ciò che ti aspetti e dura tanto. I personaggi sono molto carismatici, ma ad una certa età viene sempre il dubbio su quanto valga la pena dedicare il proprio tempo a qualcosa che non ti sorprenderà. È però la natura della serie, puro intrattenimento da godersi spaparanzati sul divano. Su questo Ultimate Muscle fa tutto il possibile. Visti i limiti di una serie basata su continui combattimenti, ogni incontro, come nel wrestling giapponese, racconta una storia. Ridicola, strappalacrime o rabbiosa che sia, è una trovata che fa bene al ritmo narrativo ed ha un senso almeno apparente di varietà. Niente più niente meno quello che faceva il suo predecessore, ma con un cast e una veste nuova. Di quest'ultima, tuttavia, non c'è da parlarne in modi chissà quanto esaltanti. Così come un classico show pomeridiano nella sua struttura, lo è anche nella sua esecuzione tecnica. Una marea di still frame, scene ripetute a go-go, trucchetti su trucchetti per simulare il movimento senza animarlo davvero. Ultimate Muscle fa di ogni sotterfugio un punto di forza, così come dovrebbe fare una produzione settimanale dal numero esorbitante di puntate. Non c'è nulla di veramente memorabile, se non ancora una volta alla scena della canzone della ciccia, che è un evergreen destinato speriamo a non morire mai. Al netto di tutte queste considerazioni, il verdetto è alquanto positivo. Gli anni dimostrati da una struttura ripetitiva non danneggiano in modo irreparabile un divertimento genuino, che tira in ballo la parte più infantile di noi per intrattenerla con 20 minuti di botte, risate e le solite ma intramontabili morali.